Il gioco d'azzardo patologico è una piaga sempre più profonda. Molti comuni hanno dimostrato che uno degli interventi più forti per contrastarlo è quello di introdurre delle distanze dai luoghi sensibili come le scuole. A ottobre dell'anno scorso, grazie al nostro impegno, la Regione Emilia Romagna ha approvato una legge che finalmente introduce le distanze di 500 metri dai luoghi sensibili come le scuole, gli impianti sportivi e le chiese. C'è un però. Questa legge sarà veramente applicata quando la Regione emanerà una delibera attuativa. La Giunta ha in pancia questa delibera da più di sette mesi. In questo momento quindi la legge è di fatto inapplicabile. Di più, fra pochi giorni in conferenza unificata verrà approvata la proposta Baretta che di fatto smonta i poteri delle Regioni e dei Comuni riducendo la distanza al massimo di 150 metri. Chiediamo quindi al Presidente Bonaccini prendi le distanze dalla proposta del Governo perché anche l'Assemblea legislativa con la nostra risoluzione ha chiesto di difendere le distanze della Regione Emilia Romagna e di difendere i poteri della Regione e dei Comuni. Chiediamo anche al Presidente di emanare finalmente questa delibera attuativa che dia la possibilità ai Comuni di allontanare le macchinette e le sale slot dalle scuole. In Regione continuano ad aprire sale slot vicino alle scuole. Chiediamo a tutti voi di girare queste richieste al Presidente Bonaccini via tweet, via Facebook e via mail. Presidente, prendi le distanze. Liberiamoci dalle slot.